Torna Modena Smart Life, il festival della cultura digitale. Dal 23 al 26 settembre, iniziative, conferenze e laboratori per mostrare come le innovazioni cambiano la nostra vita, il lavoro e i saperi. Il tema della sesta edizione del festival è ambienti digitali, ecologici, sociali. Segui gli aggiornamenti sul sito ufficiale www.modenasmartlife.it Grazie a tutti!